Bentornati alla notizia di Grande Fratello Vip. Oggi con le ultime notizie l'ichè. Le anticipazioni di un posto al sole ci svelano che Marina sarà molto preoccupata per la nipote. Alice ha in mente qualcosa, l'ultimo scontro tra Marina e Alice è stato fortissimo ma non è finita qui. Scopriamo insieme che cosa accadrà alle protagoniste di un posto al sole, la sop napoletana che va in onda su Rai 3 tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.50, dopo il nuovo programma Il Cavallo e la Torre di Marco da Milano. Marina Giordano ha appena superato un momento molto difficile, dopo il rapimento di Fabrizio Rosato. La donna è rimasta sconvolta e sta ancora raccogliendo i cocci di un trauma gravissimo. Roberto Ferri dal canto suo si è dimostrato un uomo attento e paziente, dando tempo e dolcezza alla sua futura moglie. In casa con Roberto e Marina attualmente vive anche Alice, la figlia di Elena, figlia di Marina. La nonna, come non ama essere chiamata, sta cercando di fare da mediatrice tra la figlia e la nipote con scarso successo. Infatti Alice si sta dimostrando un osso duro e non ascolta i consigli di nessuno, arrivando allo scontro. Scopriamo insieme che cosa accadrà nelle prossime puntate. Un posto al sole, Marina entra in un periodo difficile. L'ultimo litigio tra Marina e Alice è terminato con la fuga da parte della ragazza. Alice sembra concentrata in questo momento solo sul suo futuro da influenzere sull'attrazione nei confronti di Nunzio. A nulla serviranno i consigli di Marina, perché Alice andrà dritta per la sua strada e dopo aver baciato Nunzio e ricevuto un mezzo-due di picche, non demorderà comunque. Marina sarà sempre più in ansia per la nipote, perché la vedrà distratta e concentrata su cose frivole. L'idea di convincerla a laurearsi sarà una chimera e la figlia di Elena sarà sempre più inquieta. Nonostante tutti questi problemi Alice rimarrà a Napoli a vivere in casa con Marina e Roberto in un clima un po' teso. La Giordano si ritroverà a confidarsi con Ferri per capire che cosa stia sbagliando con la nipote, ma Roberto le chiederà di essere un po' più morbido nei suoi confronti. Intanto Lara Martinelli tornerà e Marina avrà ben altro di cui preoccuparsi. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.